Benvenuti su A Tutto Gossipita, prima di iniziare il video vi ricordo di Iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanellina Loredana Bertè è stata costretta ad annullare la sua recente performance a Catania nel tuo ristorante restivo a causa di un improvviso problema di salute. La cantante ha avuto un malore poco prima dello spettacolo e ha richiesto assistenza medica. È emerso che la Bertè sta affrontando problemi gastrointestinali e sta lottando contro l'influenza. Recentemente, la cantante ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, rivelando che la sua situazione è più grave del previsto. In un video in cui appare pallida con la voce tremolante e gli occhi tristi, Loredana Bertè ha nuovamente chiesto scusa a tutti coloro che l'aspettavano a Catania. Tuttavia, questa mattina ha fatto una terribile scoperta. Queste sono state le sue parole, stamattina pensavo di stare meglio, ma mi sono svegliata con un fortissimo dolore alla schiena. La mia manager ha insistito affinché facessi un secondo tampone ed è stato confermato purtroppo che sono risultata positiva al virus. Nel video, la cantante mostra il risultato positivo del tampone in diretta e conclude dicendo, mi viene da piangere sperando che possa superare la malattia in qualche giorno. Ma purtroppo Loredana Bertè è stata colpita dal virus.